Prima di partire, ragazzi, rapidissimo, vi lascio qua il coupon del 10%, link in descrizione, per acquistare le vostre card foot personalizzate. Potete realizzare quella dei giocatori preferiti che volete, potete realizzare quella vostra con nome, overall, stats, design, chi più ne ha chi più ne metta, trovate tante dimensioni differenti, cardsplus.it, link in descrizione, 10% di sconto con il coupon FIFA23. Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale YouTube. Siccome vedo che molti di voi hanno problemi, cerco di spiegarvi brevemente come effettuare i vari collegamenti per ottenere il pacchetto gratuito per foot per utenti Twitch Prime. Allora, sappiate innanzitutto che per essere utenti Twitch Prime occorre essere utenti Amazon Prime, quindi l'abbonamento Amazon per espedizioni gratuite, Prime Video, eccetera, eccetera. Quindi dovete essere in possesso di un profilo Amazon Prime. Per diventare utenti Twitch Prime dovete collegare Amazon a Twitch. Quindi il primo passo è effettuarne il collegamento. Come si fa? Molto semplicemente dalle impostazioni sotto la voce collegamenti se usate l'app, oppure da browser sotto la voce impostazioni ci sarà proprio un banner per collegare e diventare utenti Twitch Prime Gaming. In modo tale da poter effettuarne il collegamento. Vi basterà cliccare sul banner e seguire la procedura automatica per effettuare il collegamento, chiaramente facendo login con mail, password e via dicendo. Se avete problemi, vi consiglio vivamente di effettuare tutti i passaggi da browser, quindi va bene anche nel telefonino con Google Chrome, su Safari, eccetera, o meglio se su un PC, un tablet, eccetera, per agevolare e facilitare i passaggi. Una volta che diventate utenti Twitch Prime Gaming potete accedere a tanti contenuti, come ad esempio giochi gratis del mese per PC o contenuti per Pokémon Go, per foot, per Call of Duty, eccetera, eccetera. Quello che a noi interessa è il contenuto per foot, per Ultimate Team, che è un pacchetto gratuito al mese. Quindi come fare per ottenerlo? Allora, se usate l'app avete una piccola notifica di una coroncina, stessa cosa capita su PC, su browser, avete una piccola coroncina che sta a significare, è il simbolo diciamo del Prime, di Twitch. Quindi sta a significare che c'è una notifica all'interno del vostro profilo, ok? Vi basterà in quel caso cliccarci e verrete rimandati nelle tutte le notifiche. Ci sarà scritto che c'è un nuovo contenuto disponibile per foot. Cliccate lì e automaticamente vi chiederà di fare il collegamento da Ultimate Team a Twitch. Quindi collegare il vostro Twitch Prime a foot. Finito il collegamento potrete riscattare l'oggetto. Attenzione, il pacchetto non sarà immediatamente disponibile nel vostro account. Ci possono volere dai 5 minuti anche un paio d'ore circa, se ci possono essere ritardi dovuti a intasamenti, non lo so, dei server Twitch o Amazon o i foot, quello che volete. Vi basterà chiudere foot, rientrare, spegnere la web app, riaprirla, chiudere l'app, rientrare e dopo questa 10 minuti e mezz'oretta vi ritrovate il vostro pacchetto Twitch gratuito. Nei mesi successivi sarà sufficiente tornare all'interno di Twitch. Ovviamente occorrerà sempre avere Amazon Prime attivo perché se vi è scaduto l'abbonamento o se lo avete disattivato non avete più diritto ai pacchetti gratuiti. Vi basterà tornare nell'icona del Prime Gaming delle notifiche e ci sarà scritto che c'è un nuovo pacchetto disponibile per foot. Cliccate e riscattate. Se avete problemi o volete chiarimenti commentate qua sotto, altrimenti vi invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale e ci rivediamo alla prossima ragazzi. Ciao!